Il Paradiso, anticipazioni dell'un grado maggio, gelosa di Alfredo e Clara. Le puntate del Paradiso delle Signore stanno continuando ad allietare i pomeriggi del pubblico di Rai 1. Lunedì primo grado maggio andrà in onda un appuntamento che, secondo le anticipazioni, terrà tutti con il fiato sospeso. Ci saranno sviluppi importanti, Gemma avrò un malore, Irene proverà sentimenti contrastanti e Vittorio Conti continuerà le sue indagini. Nella puntata di lunedì primo grado maggio del Paradiso delle Signore, il rapporto tra Marco e Gemma sarà sempre più complesso. Il primo farà fatica a parlare dei suoi sentimenti, anche se vorrebbe essere completamente sincero con la ragazza. Ma verrà travolto da emozioni contrastanti. Inoltre la prospettiva di un lavoro all'estero lo spingerà a comunicare a tutti l'intenzione di partire per l'America. La giovane Venere, intanto, avrà a che fare con una situazione altrettanto difficile da gestire. Proverà a nascondere la sua gravidanza, ma un malore improvviso renderà impossibile continuare a percorrere questa strada. Vista la grande preoccupazione delle colleghe sarà obbligata a dire la verità sul suo stato interessante. Intanto, secondo le anticipazioni, anche Armando dovrà confrontarsi con una decisione che lo metterà a dura prova. Armando, nella puntata del Paradiso delle Signore dell'Ungrado Maggio, non saprà come comportarsi nei confronti di Agnese. Quest'ultima, dopo aver deciso di trasferirsi in Inghilterra, chiederà all'uomo che ama di partire con lei. Per lui, però, non sarà affatto semplice accettare di dire addio a tutto. Inoltre l'idea di separarsi dai suoi affetti più cari non lo entusiasmerà. Cosa deciderà di fare? Nel frattempo Alfredo e Clara saranno sempre più vicini. Il loro rapporto, con la gioia di quest'ultima, diventerà solido e intenso. Irene non potrà fare a meno di provare una forte gelosia. Vorrebbe fare qualcosa per riavvicinarsi ad Alfredo, ma l'orgoglio glielo impedirà. Così continuerà a fingere di non provare assolutamente nulla e di non essere interessata ai recenti sviluppi. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio Conti non riuscirà a dimenticare l'incendio che ha colpito il mobilificio Frigerio. Nonostante la pericolosità della situazione, non smetterà di indagare sulla l'accaduto. Le ultime scoperte lo renderanno sempre più sospettoso nei confronti di Tancredi. A parer suo l'uomo è coinvolto nel terribile avvenimento. Sarà davvero così? O ci sarà un'altra spiegazione? Per scoprirlo non resta che seguire le puntate della SOP in onda da Lungrado al 5 maggio.